Il consigliere Maurano denuncia incuria e menefereghismo al centro storico, che cosa può rispondere in merito? Io ringrazio della questione che viene posta, però ci sono dipendenti, operai, coordinatori addetti a questo servizio e non mi risulta che ci sia incuria. Ci possono essere delle situazioni che vanno recuperate, sulle quali va posta attenzione e questo sono il primo a saperlo, il primo a dirlo. Ovviamente però parlare di incuria mi sembra eccessivo perché i dati mi dicono tutt'altro, il territorio mi dice tutt'altro e le persone che incontro, i risultati e quello che noi stiamo facendo tutti i giorni in mezzo alla gente, dedicando alla cura di questo territorio, mi dice tutt'altro. Per quanto riguarda invece la strada Torretta-Pozzillo, appunto il pensiero del consigliere è questa, è una strada dimenticata. Beh, forse lui ricorda quando si facevano i mutui e si iscrivevano in bilancio e non si realizzavano le opere. Noi abbiamo utilizzato questi soldi che erano iscritti in bilancio per fare delle opere importanti in paese. Su quella strada bisogna essere onesti e bisogna dire le cose per come stanno. Io ho l'impressione che quando si esauriscono gli argomenti, pur di continuare il dibattito, di sollevare le polemiche, si cominci da capo. Un po' come l'avan spettacolo. Questa è l'impressione che io ho parlando di Torretta-Pozzillo perché è una cosa sulla quale si è talmente dibattuto. Il problema è questo. Lì c'è un percorso nel primo tratto che è facilmente individuabile. Le progettazioni sono state fatte, siamo andati avanti molto. Io mi sono occupato personalmente di questo intervento. Solamente che c'è un problema di sbocco nella parte finale, nella parte conclusiva. Bisogna ritrovare dove far passare questo percorso. E oggi attualmente è molto difficile perché nel frattempo sono state costruite negli anni e si è modificato il territorio. Quindi ci sono delle costruzioni che impediscono un percorso naturale, quello che poteva essere il percorso naturale di questo intervento. Io la settimana scorsa, dieci giorni fa, sono stato con l'autorità di Bacino perché stiamo verificando i fenomeni di arretramento, di appunto regato all'erosione costiera di questo territorio. E sono stato in quel posto, sono stato proprio nella parte terminale del Pozzillo. Perché lì l'idea ambiziosa sarebbe quella di creare un collegamento, però noi stiamo lavorando su questo perché non è una cosa semplice, con la quale si disegna con una matita, una linea su un percorso, ma è quello di potenziare anche l'aspetto, diciamo, la parte terminale di questo percorso, potenziarla. C'è un alveo, viene attraversata da un alveo, per cui è importante condividere con l'autorità di Bacino, che oggi non è propensa e quindi non autorizzerebbe in determinate condizioni un intervento del genere. Quindi sono una serie di difficoltà tecniche, oggettive, rispetto alle quali è inutile cercare di nascondersi e dire non si fa. Non si fa oggi come non si è fatta negli anni passati, proprio per via di difficoltà che ci sono, che ci sono nella fase di progettazione di questa opera. Che noi stiamo cercando, come dicevo, di aggirare, cioè nel senso di trovare percorsi alternativi. Per quanto riguarda invece i tombini in città, lamenta il consigliere la pulizia. Io capisco il ruolo, capisco la funzione e devo dire anche grazie per le segnalazioni, qualora sono reali, perché pongono attenzione su problemi evidentemente esistenti sui quali noi prontamente interveniamo. Però voglio dire, se l'interrogazione o lo spirito della segnalazione deve essere quello di sollevare polemiche su una grata che esiste in un territorio di 37 chilometri quadrati, penso che sia una strumentalizzazione eccessiva ed inutile. Tuttavia ringrazio e provvederemo subito alla verifica e alla soluzione eventuale del problema.